Da oggi Alleanza Democratica ha una presenza nel Consiglio Comunale nella figura del Consigliere Dario Tonzino. Perfetto, tu hai centrato il problema nel modo giusto. Siamo stati così sensibili che abbiamo atteso che tutti i livelli istituzionali del Comune si fossero formati. Adesso c'è il Consiglio Comunale, vi sono le commissioni consigliari permanenti, vi sono le commissioni speciali. Quindi la macchina è partita. In questa macchina è ovvio che Alleanza Democratica, che ha idee da mettere in campo e proposte da formulare, aveva bisogno di poter utilizzare gli strumenti tecnici che il regolamento consigliare offre. E ringraziamo ancora una volta il Consigliere Dario Tonzino perché ci dà l'opportunità di fare quel che a noi piace, la politica. E' infatti il Consigliere eletto nella lista Idea Nuova, a sostegno dell'ex sindaco Ciro Borriello, alle elezioni comunali dello scorso 14 e 15 maggio, il portavoce nell'assise consigliare della lista che ha dato sostegno in campagna elettorale alla coalizione del centrosinistra, portando alla vittoria il sindaco Luigi Mennella. Una voce all'interno dell'emiciclo consigliare, preziosa seppur di opposizione, per dare possibilità di espressione alle eventuali mozioni, interrogazioni e interpellanze, affirma della sigla partitica riferibile all'ex senatore Agnello Formisano attraverso un patto di cooperazione rafforzata. Ovviamente, e lo abbiamo ribadito e lo confermiamo stamattina, nella chiarezza di posizione politica, nel senso che il Consigliere Tonzino è stato eletto nel centrodestra e noi di Alleanza Democratica siamo nel centrosinistra. Perché la scelta su Idea Nuova, in modo particolare sul Consigliere Dario Tonzino? Bisognerebbe chiedere ad altri che non si sono fatti avanti perché non hanno offerto questo strumento ad Alleanza Democratica. Mi piace invece dire che con convinzione abbiamo scelto Dario Tonzino perché allo Stato è l'unico agente di polizia giudiziaria presente nel Consiglio Comunale di Torre del Greco. Questo per noi rappresenta una garanzia. Parole a cui fanno da ECO le dichiarazioni del Consigliere Tonzino che ribadisce la nettezza delle proprie posizioni e la non alterazione degli equilibri del Consiglio Comunale. Ho piacere a fare questa cooperazione con la lista Alleanza Democratica e come era mia già intenzione. Assolutamente non altera gli equilibri del Consiglio perché la mia posizione rimane tale, cioè quella di rimanere in opposizione e per il bene della collettività torrese. Ci sarà massimo impegno e trasparenza. Abbiamo fatto questo patto di cooperazione con l'Alleanza Democratica perché mi tenevo giusto dare anche un po' di visibilità visto che c'è un ottimo rapporto con il senatore Formisan di dare una voce in Consiglio Comunale anche alle istanze di un partito anche se non è lo stesso schieramento facendo parte della coalizione di Mennella dare una voce in Consiglio Comunale alle istanze dei propri elettori in Consiglio Comunale.